tema del giorno giorgio napolitano e matteo messina denaro chiunque non è interessato è libero di andarsi a vedere un altro video in questo momento allora se siete interessati continuate a guardare io già da settimane volevo fare delle live o delle premiere dedicandole cada ciascuno ciascuna a questi due personaggi però non ho mai avuto tempo e adesso arrivo tardi che già magari ha perso interesse nell'opinione pubblica volevo già nel passato ho parlato di giorgio napoletano tanto nelle reti sociali come in youtube andatevi a vedere un video intitolato il toto presidente nel quale dico come giorgio napoletano si sia rivoltato come una frittata ogni volta che ha potuto è stato nei guf la gioventù universitaria fascista per poi riciclarsi come comunista dopo nel dopo guerra infatti qualcuno gli chiese a giorgio napoletano ma lei che ne pensa della resistenza e lui ha risposto è stato un periodo eroico peccato non averlo vissuto perché io facevo parte della gioventù universitaria fascista quindi almeno non era ipocrita era sincero durante gli anni sessanta mi sembra c'è stata la primavera di praga soppressa nel sangue dall'armata rossa dell'unione sovietica perché non so se la cecoslovacchia era un paese satellite e in quell'epoca giorgio napoletano disse dieci cento mille repressioni a praga se questo serve a salvare l'unione sovietica e a mantenere la pace nel mondo questo era giorgio napoletano uno che è rimasto sempre coerente alle sue idee infatti dal fascismo è passato al comunismo sovietico al socialismo più duro che dire e poi riguardo matteo messina denaro di denaro ne fece molto ma è lo stesso caso di toto rina e di tanti altri cioè dove stavano erano lati tanti ma lo stato sapeva dove stavano tutto il mondo sapeva dove stavano dove stavano stavano a casa loro ogni tanto si nascondevano in un bunker ma tutto il mondo lì se gli sapeva dove stavano fatto sta che dovevano avere per forza dei collaboratori loro potevano pure stare isolati ma chi li portava da mangiare chi li portava i pizzini con le notizie a toto rina allora matteo messina denari non fu o denaro non fu uno che visse come un'eremita sul cucuzzolo di una montagna alienato oppure nel lato oscuro della luna in una basse spaziale lui viveva nella sua città nel suo domicilio alla faccia di tutti come quei gerarchi tedeschi scappati alla fine della seconda guerra mondiale e che tutto il mondo sapeva dove vivevano in america latina o in nord america soltanto che per una o per un'altra ragione pressero il passaporto diplomatico attraverso la svizzera del vaticano pagando e se ne scapparono in giro per il mondo poi a un certo punto si vede che già ormai i patti i patti erano finiti i soldi erano già stati pagati decade prima e bisognava fare vedere che si era efficaci nella lotta a quelli che sono stati i governi dittatoriali e li andavano a prendere di qua e di là quindi evidentemente che c'è stato un patto stato mafia in italia poi alla fine quando già questo patto si era aveva perso la sua importanza dopo la strage dei gerogofili tanti attentati ormai evidentemente le mafie hanno perso di potenza e allora non si rispettano più quei fatti fatti chiari la tittanza larga ormai non era più di interesse salvare i vari totorina o i vari matteo messina denaro